Campionato apertissimo, buonasera da tutto mercato web sia per quello che riguarda la lotta a Scudetto che per la corsa al terzo posto mentre le Big iniziano a progettare i loro colpi per l'estate. Simone Bernabè, buonasera anche a te. Sì, ciao Lorenzo, ciao a tutti. Assolutamente sì, il pareggio di ieri sera delle Juventus contro il Bologna ha certificato una volta di più che la corsa a Scudetto potrà andare avanti veramente fino all'ultima giornata. Attenzione però perché anche la corsa per quanto riguarda il piazzamento in Champions League è apertissima. Milan, Inter, Roma, Fiorentina sono tante le squadre in corsa. Un occhio però anche al mercato perché le squadre si stanno già muovendo in vista dell'estate si sta muovendo soprattutto la Juventus che proverà a piazzare una serie di colpi fra tutti quello legato a Gundogan del Borussia Dortmund. Dunque adesso restate qui, la sigla e poi partiamo. Buonasera a tutti, dunque il campionato è riaperto per quello che riguarda il vertice della classifica anche se effettivamente non si era mai chiuso. Comunque dopo il pareggio di ieri della Juventus contro il Bologna, il Napoli lunedì sera avrà la possibilità del controsorpasso nei confronti dei bianconeri. Andiamo subito a presentare i nostri ospiti, grande ospite, Daniele Carnasciale. Buonasera. Ciao, buonasera. E un saluto anche a Niccolò Ceccarini, Premium Sport, quasi grande come Daniele Carnasciali. Con qualche presenza in meno in Serie A e tra i professionisti in generale. Buonasera a tutti. Allora Daniele, parlando della Juventus, il risultato di ieri, secondo te la Juventus è stata un po' condizionata dal pensiero verso la Champions League? Ma diciamo che ha trovato una squadra ben messa in campo che ha lottato su tutti i palloni per 93 minuti. Il Bologna di ieri non era facile fargli i gol, infatti la Juventus non ha avuto molte occasioni. Quindi un bravo a Donadoni e al Bologna. Alla fine quasi meritava il Bologna di vincerla questa partita. No, il pareggio è il risultato giusto, però quando pareggio con la Juventus dopo 15 vittorie consecutive è già un successo. Niccolò, il dato negativo per quello che riguarda la Juventus è che dal punto di vista delle occasioni create sembra aver perso qualche certezza la Juventus e questo può preoccupare la squadra di Allegri in vista della partita contro il Bayern. Ma io non credo, non credo. Diciamo che è mancato solo il gol alla Juventus perché qualche occasione l'ha avuta, l'ha avuta con Pogba. Insomma anche lui sicuramente ha giocato una discreta gara. È chiaro che forse uno ha in testa la Juve che vince tutte le partite facilmente 2-3-0, non è così. Bisogna fare anche i complimenti al Bologna perché da quando c'è Donadoni questa squadra è stata trasformata. E questo anche rivaluta la campagna acquisti fatta da Corvino quest'estate e anche quello che è arrivato a gennaio. Certo la sfida col Bayern Monaco è tutta un'altra storia perché qui siamo di fronte ad un'avversaria di valore mondiale anche se ha molte assenze difensive e questo potrebbe essere il grande punto di svolta della partita contro il Bayern. In tanti, a proposito dei Donadoni, Daniele si chiedono come mai ancora non si sia seduto sulla panchina di una big nazionale a parte. Secondo te il prossimo anno lo vedremo su una grande panchina? Io lo spero per lui, forse non ha quell'appille che hanno magari di altri allenatori, è uno sempre tranquillo, pacato, però i risultati li fa sul campo, un allenatore che a me mi piace e che vorrei sempre vedere in una grande squadra. Bologna è una bella piazza e quindi sta facendo bene, spero per lui di vederlo magari nelle panchine di qualche società prestigiosa. Però ecco, lo vedo bene anche a Bologna. Diciamo un'apertura di trasmissione della Juventus che sta iniziando a progettare i propri colpi per il mercato. Gundogan, questo giocatore approderà in bianconero, pare di sì. A che cifre però? Io penso che Gundogan sia l'obiettivo, un obiettivo a cifre importanti perché ci vorranno almeno 30 milioni di euro, però la Juventus già l'avrebbe preso volentieri nel mercato di gennaio, non è stato possibile perché comunque il Borussia Dortmund non lo voleva cedere. Il giocatore comunque è molto tentato da poter giocare in Italia e credo che sia una grande soluzione per il centrocampo della Juventus. Questo a prescindere da quello che sarà il futuro di Pogba, perché tutti collegano o no l'arrivo eventuale di Gundogan alla partenza di Pogba. La Juventus in questo momento si può permettere due calciatori di questo tipo, quindi non è necessariamente scritto che debba per forza di cosa andare via Pogba, anche se arriverà un'offerta sicuramente intorno ai 100 milioni. Juventus che guarda anche in prospettiva e sembra aver messo le mani anche su Gans Junior, il figlio di Maurizio Gans. Attualmente forza Alcomo, la testimonianza questa la conferma che la Juventus guarda i giovani, i giovani più importanti, ne ha già bloccati e presi alcuni e questo sarebbe un altro bel tassello per il futuro. Il bel tassello è che sono giovani ma anche italiani, cioè Mandragora, Sensi, adesso anche Gans, Lapadula, mettiamoci dentro anche Lapadula perché è un altro giocatore. Forse anche Caprari. Caprari che sono tutti sotto orbita a Juventus, comunque sia che la Juventus da gennaio ha già messo nel mirino e che potrà perfezionare poi questi acquisti direttamente in estate. È un progetto molto ambizioso, anche un po' per certi versi rischioso, però la Juventus ha dimostrato proprio nell'ultimo anno, perdendo tre giocatori importanti, che facendo un po' di lavoro di rinnovamento graduale si possono inserire i giovani in un contesto di una squadra vincente e d'altra parte questo è il progetto del futuro. Gans che in qualche giocata ricorda il padre, se lo è d'accordo Daniele? Especialmente lo ricorda perché fa gol. Quello per forza, sì. Lo sto seguendo in B, anche se il Comun lo sta facendo molto bene, però ecco lui ogni volta che gioca fa gol e ha lo stesso istinto del babbo. E quindi è un giocatore da tenere in considerazione, ha ragione Niccolò a dire che è italiano e quindi la Juventus fa bene a seguire tutti i giocatori giovani italiani. Non ci scordiamo che c'è anche Rugani, anche se non gioca mai, però è un ragazzo giovane, quindi sono d'accordo con la politica della Juventus. Gans comunque opportunista ma anche in grado di cercare la giocata d'effetto, ad esempio la rovesciata è un colpo che prova a mettere in pratica. Sì, il babbo era più uomo d'aria, lui mi sembra più un giocatore anche di struttura fisica diversa e quindi ha tutte le prospettive per far bene. Poi è un 93, quindi 22-23 anni sono giovani. C'è una carriera davanti. Per quello che riguarda il Napoli invece, così parliamo della squadra di Sarri, grande chance quella di lunedì sera, battendo il Milan può effettuare questo controsorpasso in confronto della Juventus e andare a questa corsa fino alla fine per lo studetto. La partita secondo me è una delle partite più delicate dell'anno per il Napoli, per chi viene da una sconfitta con la Juventus, una sconfitta con il Viglia Reale, anche se sono tutte e due immeritate. Ha la possibilità di fare il controsorpasso, però giochi con il Milan che non è una partita semplice, quindi se non dovesse vincere forse gli viene a mancare un po' di certezze, anche perché poi dopo va a Firenze contro la Fiorentina. Quindi secondo me è una partita chiave. Dovesse vincere e fare una buona gara, tutto si tranquillizza, tutto ritorna come era prima. Non vincendo secondo me per il Napoli potrebbero venire fuori dei problemi. Quindi può girare secondo te Nicolò intorno a questa partita la corsa a scudetto del Napoli? Può girare, ma può girare anche la Champions del Milan, per quello che diceva giustamente Daniele. Alla fine noi guardiamo la possibilità del controsorpasso del Napoli, ma è altrettanto vero che se poi il Milan perde contro il Napoli e se ci sono dei risultati, tipo quello della Fiorentina e della Roma positivi, poi il gap e la distanza dal terzo posto si allunga. Quindi è una partita delicata per tanti motivi. Più delicata per il Napoli che ha l'obbligo di vincere. Il Milan, sai, comunque in questo momento è più debole del Napoli. Potrebbe avere, non dico, un po' più di spensieratezza, però è chiaro, va a Napoli cercando di portare a casa un risultato positivo. E sono d'accordo con Daniele quando dice che è la partita più difficile di tutta la stagione perché viene da due sconfitte, soprattutto quella contro la Juventus, maturata due minuti dalla fine, immeritata. Cioè nel senso che comunque le squadre si erano equivalse, però alla fine hai perso e hai portato a casa zero punti. In chiave mercato invece si è parlato molto in questi giorni di un'offerta arrivata da parte del Valencia per Albiolo. Un'offerta anche abbastanza sostanziosa. Ma guarda, io credo che sicuramente il Napoli punterà ancora su Coulibaly, perché comunque è cresciuto tantissimo questo ragazzo e sta diventando veramente uno dei punti di riferimento della difesa del Napoli. A questo punto vediamo cosa vogliono fare, perché se dovesse arrivare l'offerta per Albiolo loro potrebbero trovarsi ad un bivio, fare anche un doppio investimento. E secondo me, credo, ma non sono ancora sicuro, ci sto lavorando proprio su questa trattativa, credo che il Napoli abbia molte possibilità di prendere Maximovic, a prescindere. Se poi dovesse andare via Albiolo potrebbe reinvestire soldi anche su un manmana del River Plate, quindi andare a fare un doppio investimento in difesa. Quindi attenzione a questa strada. Questo vuol dire che comunque probabilmente questi centrali, pur essendo cresciuti con Sarri, non sono il top centrali difensivi del Napoli. Abbiamo comunque anche una questione anagrafica, ma è più giovanissima. Però c'è anche chi, in un'intervista che abbiamo realizzata da Tutto Mercato Web, ad esempio Palanca, sosteneva che in fondo questi due centrali, pur essendo cresciuti, i gol che ha preso il Napoli sono frutto di disattenzioni dei due centrali, a livello tattico non sono il massimo, secondo il parere di Massimo Palanca. Diciamo che sono migliorati tantissimo sotto Sarri. Logico che il centrocampo e l'attacco del Napoli rispetto alla difesa, non diciamo che di un'altra categoria, ma quasi ci manca. Quindi il Napoli si deve rinforzare, deve prendere giocatori, secondo me, di livello, come il centrocampo e l'attacco, allora lì diventerebbe una squadra, secondo me, ancora più forte. E Maksimovic potrebbe essere uno di questi giocatori di livello? Potrebbe essere. Ma Sarri, sono convinto che se gli decidi prendere Tonelli, lui lo prenderebbe subito. Quindi diciamo, giocatori che magari lui conosce, sa quello che gli possono dare, quindi Maksimovic è un ottimo giocatore. A lui mi interessa, secondo me, i giocatori che fanno quello che lui dice e che lo fanno bene. Tonelli e Rugani lo facevano molto bene. Maksimovic, per esempio, c'è un'altra caratteristica, questo te lo dico perché, lo so, dal Napoli piace molto perché può fare sia il difensore centrale, ma volendo si può adattare anche a fare l'esterno. Maksimovic ha anche questa duttilità a livello tattico e non è un caso che sarebbero stati disposti a spendere anche fino a 17-18 milioni di euro a gennaio per averlo. Allora, ho capito che comunque a giugno, di fronte a questi soldi, probabilmente Cairo tutta questa resistenza non farà anche perché Maksimovic per due sessioni di mercato è stato corteggiato tantissimo da Napoli già quest'estate. Ora a gennaio questa potrebbe essere la volta buona, insomma, in estate. Parliamo anche del Milan. Oggi è stata una ricorrenza speciale per il club rossonero perché sono 30 anni da quando Silvio Berlusconi ha acquistato il club del Milan. Andiamo dunque in redazione per fare il punto della situazione sui rossoneri e ci colleghiamo con Andrea Losapio. Buonasera Lorenzo, siamo qui con le magliette del Milan, quella di Honda, quella di Buonaventura. Non sono sicuramente i due numeri dieci più forti della storia del Milan di Berlusconi, però i 30 anni possono anche essere festeggiati così. Sicuramente 25 anni almeno di grande Milan negli ultimi 5. ci sono stati dei grossi problemi anche per una questione finanziaria, soprattutto per il fair play finanziario e la crisi che ha investito il nostro calcio, però certamente questi due giocatori stanno facendo grande il Milan di nuovo o meglio ci proveranno nei prossimi mesi. Perché? Perché comunque la Champions League dovrebbe arrivare tramite una qualificazione al terzo posto, non sarà certo semplice. Sicuramente poi il Milan di Berlusconi negli anni ha fatto molto bene, possiamo ricordare Van Basten, questi probabilmente non sono i numeri dieci migliori, possono essere Savicevic, può essere Kakà, può essere lo stesso Pirlo, sebbene poi sia stato riciclato in un ruolo diverso, però è chiaro che anche da loro passa il nuovo Milan. Proprio Berlusconi ieri ha detto che Locatelli sarà il nuovo Pirlo e Donnarumma è incedibile, da loro riparte il Milan per l'assalto anche alla Champions. Allora Daniele, giovani, interessanti, certamente quelli del Milan, alcuni li abbiamo visti all'opera nel corso di questa stagione, sono stati anche protagonisti di vittorie significative, certo è che pensare adesso ai fasti di un tempo per il Milan sembra difficile, cosa ne pensi? Penso che in 30 anni hanno vinto tutto quello che c'era da vincere, penso che è la squadra che ha vinto di più, quindi si deve rimproverare poco. Poi, come sempre, ci sono gli alti e bassi, adesso il Milan sta attraversando, secondo me, un periodo di ristrutturazione, anche a livello societario, e i soldi sono anche sempre meno. che sta facendo bene è la Juventus, perché ha uno stadio di proprietà, è una squadra di programma, è una squadra che ha una solidità alle spalle inquadrata bene, è quello che devono fare, secondo me, tutte le altre, perché mi sembra solo dallo stadio di proprietà la Juventus è in cassa dai 25 ai 30 milioni all'anno, quindi sono soldi da reinvestire per il mercato. Quello che mi preoccupa è che lo sta facendo solo la Juventus e non lo vedono. Il Milan aveva un progetto, però poi alla fine è sfumato e alla fine per adesso giocherà ancora a lungo a San Siro. Certo, c'è il progetto il Milan, l'Inter, la Roma, la Lazio, la Fiorentina, però è un progetto, quando rimane su carta non dà risultati, quindi da questo punto di vista un applauso magari a Berlusconi per quello che ha fatto, ma adesso è due o tre spanne dietro alla Juventus. Per quello che riguarda la partita con il Napoli, festeggiamenti doverosi, quelli di oggi, però la squadra ce la farà rimanere concentrata, può essere questo un rischio? Il rischio degli eccessivi festeggiamenti di essere contagiati da questa atmosfera di festa? Ma questo non lo so, vediamo, intanto parla sempre il campo, quindi dobbiamo aspettare le partite e vedere. Per quello che riguarda il mercato, Witzel è il grande sogno, Nicolò? Sì, anche se volevo tornare un attimo indietro e dire che comunque il Milan ha speso 90 milioni quest'estate per fare una squadra. No, secondo me... Probabilmente sono Bertolacci, è stato sopravvalutato. Sì, però per esempio Romagnoli, ne parlavamo prima con Daniele, alla fine 25 milioni di euro più bonus. 20 per Bertolacci però. 20 per Bertolacci possono essere anche troppi, però per esempio 30 per Bacca, cioè magari forse secondo me al Milan mancava, e manca tuttora, ed è per questo che torna la tua domanda, il centrocampista che in mezzo al campo gli fa cambiare il passo. Perché comunque al Milan, secondo me hanno bisogno di un giocatore di estrema qualità lì nel mezzo. Prima sentivo di Pirlo, è chiaro che Pirlo è stato un grandissimo giocatore, e lo è tuttora comunque, però serve uno che in mezzo al campo diriga l'orchestra. Diriga l'orchestra, permette alla difesa di stare tranquilla, e là davanti di dare degli assist agli attaccanti. Per cui ti dico, ecco perché Witzel può essere in questo momento, diciamo per il futuro, un giocatore importante. Molto più di Fellaini, molto più di altri che sono accostati al Milan. È un giocatore che piace da tempo, però sai, quanto potrà spendere il Milan quest'estate? Perché la vera domanda è questa, se il Milan arriva a terzo, ci sono naturalmente soldi anche della Champions League, ammesso che si passi il preliminare. Quanti soldi vuol mettere magari Berlusconi nella prossima campagna? Perché ci sono tanti discorsi da fare. Però Witzel, secondo me, è un obiettivo che il Milan ha e che io mi auguro per il Milan possa riuscire a concretizzare, soprattutto per un motivo, che Witzel avrà il contratto in scadenza a giugno 2017, quindi il prezzo calerà. Comunque il Milan ha speso 90 milioni, perché negli anni precedenti ha sempre preso giocatori in prestito. O a scadenza di contratto. O a scadenza di contratto. E quindi non ha rifondato la squadra. Certo. La doveva rifondare piano piano. Esatto. La Juventus adesso se fa Cavani e Ogundega, sono due giocatori che paghi, magari vendi Pogba, e ha già pareggiato Conti, e sei sempre al top. Il Milan per essere al top non deve spendere 90 milioni, deve spendere tre volte. Negli anni passati non ha guardato al futuro. Non ha guardato, è logico. Eh, lo so. È un po' l'errore che ha fatto l'Inter dopo aver vinto nel 2010 tutto. Visto che stavamo parlando della lotta Champions, Daniele, la Roma per il terzo posto la ritiene la favorita, visto che da quando è arrivato Spalletti ha ritrovato gioco, condizioni, certezze? Ma ora, la favorita, non c'è una favorita. Io vedo bene la Fiorentina perché è tutto l'anno che sta giocando bene, perché ha un allenatore, secondo me, bravo, ha giocatori che lo seguono, sta giocando sempre bene, fa risultati. Quindi, secondo me, la Fiorentina è quella che ha le carte in regola per arrivare ai terzi. Logicamente, da qui alla fine sarà di fiera. Cioè, da considerare anche che la Roma in Champions praticamente dovrà dire addio a questa competizione dopo il risultato e l'andata con il Real degli ottavi da Champions. Non lo diciamo, ma... No, insomma, realisticamente... Certo. No, poi, Spalletti è arrivato da poco, anche se ha giocato un po' in un gioco. La Roma è diversa rispetto a quella di Garzia. Prima sembrava non avesse un'anima, invece adesso, ecco, è una squadra da temere. però ho fiducia in questa squadra, ho fiducia nella Fiorentina, ho fiducia nell'allenatore e quindi, secondo me, farà un finale di campionato ottimo. Per quanto riguarda la Roma, c'è anche da sciogliere il nodo Dzeko, questo giocatore che, francamente, ha deluso nel corso di questa stagione e questi ultimi mesi di campionato saranno decisivi per il suo futuro in giallo-rosso. C'è chi sostiene che sia già arrivata una proposta da parte del Besiktas per questo calciatore. 15 milioni più 5 di bonus, insomma... No, l'interesse c'è sicuramente, però io credo che, insomma, Dzeko la Roma l'ha cercato, l'ha fortemente voluto e non è stato solo quest'estate, l'aveva cercato anche in precedenza, non c'erano mai stati margini per fare questa operazione, un giocatore che Walter Sabatini considerava importante per il progetto tattico di Garzia, ma in generale per un progetto tattico di una squadra forte come la Roma. Sai, ha trovato anche un po' di difficoltà. Io devo dirti, era l'Olimpico mercoledì e quando è entrato a me non è dispiassuto. Insomma, è chiaro che Dzeko deve essere servito, cioè, devi fare in modo tale che arrivino dei palloni per lui, per cui, diciamo, le famose ali come c'erano una volta, bisogna che lavorino, cioè il Perotti della situazione, il Salah, lavorino anche per Dzeko perché altrimenti poi diventa difficile poter servire un centravanti del genere. Io aspetterei un paio di mesi prima di pensare a quello che è il futuro di Dzeko. Anche se per il gioco di spalletti non è l'ideale, Dzeko, lo possiamo dire questo? No, anche perché l'ha sempre giocato con il faccio nuovo. Per lui non è... Però è anche vero, insomma, non puoi dire a Dzeko di venire incontro a giocare, a fare le sponde. Un cross, perlomeno un cross in una partita, lo devi fare e anche mercoledì non è nemmeno fatto. Quindi deve essere un po' magari anche l'allenatore a cercare di fare un tipo di gioco un po' più sulle facce. E lui si è sacrificato, si sta sacrificando per la squadra, anche se non ce l'ha proprio nel DNA questo tipo di gioco. Però ecco, le difficoltà ci sono. Accennavi a Sabatini, qual è il futuro del direttore sportivo della Roma? Ci sarà ancora sulla sua poltrona giallorossa il prossimo anno? Io fossi la Roma me lo terrei ben stretto. Però poi bisogna valutare un po' anche quello che la Roma ha in testa se magari pensa come del resto lo stesso Sabatini perché c'è anche una valutazione che sta facendo lo stesso Sabatini se il suo percorso è terminato o meno. Diciamo che il binomio Sabatini-Garzia è stato già interrotto dalla partenza di Garzia e io ti dico secondo me ci sono 50 possibilità su 100 in questo momento non è per fare il diplomatico che Sabatini vada via anche perché poi dopo Sabatini ha fatto delle grandi operazioni di mercato. Io dico spesso magari nessuno ora lo sottolinea però per esempio Paredes è un grandissimo giocatore che è a Empoli solo che non trovava spazio con Garzia e sono stati costretti a darle in presto per cui insomma di operazione di giocatori bravi ne ha portati Spalletti secondo me su certi giocatori credo sia anche d'accordo con il direttore sportivo però poi penso che alla fine la scelta sia proprio di Walter Sabatini se lui considera magari che la sua esperienza anche per tutto quello che vuol dire anche fare direttore sportivo a Roma e non è semplice è giunta al termine magari diciamo anche per una questione di motivazioni io penso che alla fine possa anche possa andare via però non è facile trovare un sostituto di Walter Sabatini non so come la pensate voi una città come Roma e una città come Roma chi è che ha l'esperienza e soprattutto la pelle dura tra virgolette per resistere ad un ambiente come Roma ma guarda si parlava in tempi precedenti anche di Perinetti se ti ricordi bene che conosce comunque l'ambiente ci ha già lavorato alla Roma però non lo so magari Perinetti lo vedevo più in un progetto con Conte ti ricordi si parlava anche del fatto chiaramente se arrivavano in fondo con Garzia ora è ricambiato tutto non è facile perché per esempio i dirigenti che possono avere una grande esperienza per esempio Corvino dovesse andare via Sabatini per dire dalla Roma e magari va a Bologna faccio per fare un esempio per esempio Corvino potrebbe andare cosa ne pensa Daniele tra Corvino Branca Pier Paolo Marino certo si si è vero per l'ambiente di Roma ci devono essere direttori con una certa qualità un certo percorso che hanno fatto nella loro carriera quindi io fossi la Roma e mi terrei Sabatini quindi sei d'accordo con me però sai credo che alla fine sarà lui che deciderà lui alla fine credo potrebbe dipendere anche dal terzo posto anche dal suo punto di vista magari riuscire quantomeno ad arrivare in Champions potrebbe cambiare qualcosa i risultati contano conta anche quello che dice Pallotta bisogna vedere perché poi sai magari può darsi Pallotta abbia in mente altre persone mi auguro per Sabatini perché secondo me lo reputo uno dei migliori in Italia quindi parliamo anche della Fiorentina impegnata domani contro l'Atalanta Fiorentina reduce dall'1 a 1 nell'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Tottenham dicevi che ti dà grande fiducia Daniele nella Fiorentina in vista della corsa al terzo posto una Fiorentina che comunque deve sempre fronteggiare polemiche interne polemiche legate all'ambiente adesso è scoppiato anche il caso Sepe non ci voleva insomma un'ulteriore polemica a creare possibili condizionamenti all'interno del gruppo le polemiche fanno sempre male dovrebbero rimanere all'interno dello spogliatoio e mai uscire fuori lì è stato il giocatore che con una lettera aperta l'ha detto un po' a tutti no ma io penso che sia che sia rientrata il giocatore ha chiesto scusa poi la Fiorentina fa bene a prendere i provvedimenti del caso perché è sempre bene calmierare l'ambiente per quanto riguarda la partita no col Tottenham comunque ha giocato bene ha fatto vedere che ci può stare benissimo in Europa League il Tottenham è una squadra che in Inghilterra mi sembra sia un secondo o terza quindi è un top club e non ha sfigurato anzi sul piano del gioco secondo me è piaciuta più la Fiorentina quindi ci può ci può stare e deve continuare su questa strada io l'ho detto dall'inizio dell'anno per lo meno la Fiorentina è una delle squadre insieme al Napoli insieme all'Empoli che mi piace di più vedere quelle che ti danno più soddisfazione la soddisfazione è che si vede che hanno un gioco e l'allenatore ha delle idee e i giocatori li mettono in campo cioè non è facile credetemi fare la domenica quello che ti chiede l'allenatore durante la settimana è la cosa più difficile te eri abbastanza bravo a farlo però quando giocare no abbastanza bravo bravo no a parte è molto è molto difficile e quando lo vedi fare e te che lo guardi ti dà soddisfazione è una Fiorentina quella di domani e anche quella contro il Napoli che dovrà fare a meno di Zarate uno dei giocatori che ha dimostrato di poter far cambiare marcia alla squadra quando è entrato sì devo dirti la verità io l'avevo un po' perso di vista Zarate pur avendo sempre negli occhi ero stato abbagliato dai primi sei mesi con degli orossi alla Lazio cioè quando lui veramente prendeva questo pallone arrivava in porta scartava tutti poi ha pagato un po' la continuità di rendimento forse anche a livello caratteriale e ti devo dire quando la Fiorentina l'ha preso ho detto speriamo che abbia avuto diciamo così un'intuizione giusta perché comunque per sostituire Pepito Rossi che comunque doveva ritrovare la condizione la davanti serviva un giocatore anche con queste caratteristiche devo dire che lui sta incidendo e l'ho visto anche propositivo insomma l'ho visto un po' cambiato rispetto all'ultima esperienza italiana poi non so ora è appena arrivato però per il costo e la qualità dell'operazione secondo me alla fine è stato un buon acquisto è un Salah bis come l'anno scorso Salah ha avuto ancora più di un peggio però Salah non l'ha acquistato Zarate sì però ha già inciso è vero quando è entrato insomma di fatto ha cambiato il merito della vittoria con l'Inter è di Zarate anche con il Carpi per esempio sì sì no ma per ditte insomma nel mercato però è mancato un esterno destro ne parlavamo prima della trasmissione è mancato il carnaciaio della situazione insomma o il centrale di destra o che è strano quando giocavo tutti dicevano è l'ora che per lasciare vendiamolo perché insomma c'è di meglio in giro e poi alla fine non si trovava mai nessuno no vabbè a parte le battute ma sai la Fiorentina credo sia andata lunga sul difensore l'abbiamo detto mille volte perché gli obiettivi erano altri e adesso Benaloanne lo dobbiamo ancora verificare lo dobbiamo ancora vagliare ancora infortunato ancora infortunato e comunque diciamo così nel lato di centro-destra della difesa la Fiorentina fa fatica e sta facendo fatica e magari noi ci auguriamo per la Fiorentina che da giugno in poi non faccia più fatica con un centrale di ruolo perché comunque Benaloanne è un prestito con diritto di riscatto è tutto da vedere se la Fiorentina lo riscatterà comunque sia però è chiaro che sia Tomovic che lo stesso Roncaglia in una difesa a tre in quel ruolo lì si devono adattare non è loro non lo sentono quel ruolo e quindi si può incorrere anche in queste difficoltà poi Daniele ci può dare magari un dettaglio tecnico maggiore rispetto a quello che ho detto io si vede che non è loro si vede sotto l'occhio di tutti gli errori se vengono fatti vengono fatti da quella parte lì e spesso anche Gonzalo per sopperire un po' alla mancanza tante volte lascia dei varchi nella propria area di competenza e quindi un po' di problemi ci sono ma penso la Fiorentina lo sape Paolo Sosa lo sa infatti alterna un po' un po' un po' un po' Tomovic per vedere di riuscire a a gestirli ma il problema rimane il problema rimane deve essere brava la società perché non è non è da quest'anno è che l'anno scorso quindi io inizierei un po' a pensarci seriamente dovevano averlo già fatto ci hanno pensato ma non ci sono riusciti non ci sono riusciti sì diciamo è andata così alla fine siamo in chiusura grazie a Daniele Carnasciali grazie anche a Nicolce Carini di Premium Sport grazie a tutti voi che ci avete seguito fin qui un buon proseguimento di serata buonanotte